Mi hanno chiesto un chiarimento sulla cifratura della rete GSM. Quando accendi una radiolina per ascoltare la tua stazione radio preferita, non devi fare altro che sintonizzarla sulla sua frequenza. La rete cellulare GSM sfrutta la stessa tecnologia, quella delle onde radio. Le radio commerciali vanno da 88 a 108 MHz. La rete GSM da 900 a 1800 MHz. Quando fai una telefonata, il tuo telefono e quello del destinatario concordano una frequenza attraverso la quale far passare la telefonata. In realtà è molto più complicato di così, ma in questo modo si capisce meglio. Se qualcuno avesse una radio in grado di sintonizzarsi su quella specifica frequenza, sarebbe in grado di ascoltare tutto quello che viene detto durante la telefonata. Questo tipo di radio esiste già in commercio. Si chiamano scanner radio. Per risolvere il problema, le telefonate vengono cifrate, usando un esperiente matematico che rende la voce comprensibile solo dal mittente e dal destinatario. Grazie a tutti! Grazie a tutti.